Buonasera, buonasera a voi. Allora, fino a pochi istanti fa stavo seguendo le varie dirette live dalla Germania per quanto riguarda la manifestazione di Berlino. È tutto il giorno che sto seguendo questa manifestazione anche con diversi contatti in Germania. Ora vedete, a me capita di confrontarmi con molte persone, anche con persone amiche, persone che magari collaborano anche con me a livello informativo. E non pochi, devo dire la verità, mi hanno detto ma magari cerca di gonfiare un po' i numeri, non è che bisogna sempre dire esattamente le cose come stanno, magari così cerca di vedere, di innalzare i numeri della presenza in questa manifestazione di Berlino. Ora vedete, questo non fa parte del mio modo di essere. Io non sono fatto così, io non riuscirei mai a dire una cosa della quale non sono convinto. Ora andiamo per ordine, perché è importante andare per ordine. Ognuno ha dei suoi riferimenti, soprattutto per quanto riguarda le fonti di informazioni. E la stessa cosa faccio pure io. Chiaramente ci si affida ad uno piuttosto che a un altro per fiducia, per esperienza. E io ho seguito per quanto riguarda in particolare la manifestazione di Berlino, quello che negli ultimi giorni ci raccontava e ci riportava Oliver Janisch. Chi è Oliver Janisch? Oliver Janisch è un autore, uno scrittore, è un giornalista ed è pure uno che ha fondato qualche tempo fa un partito, un partito La Ragione, che parla di ragione, cioè di ragionare. Quindi un partito sicuramente non violento e di questo partito ne è stato pure presidente. Potete tranquillamente trovarlo su internet, ripeto, Oliver Janisch con la J di Juventus. Tranquillamente lo trovate. Ora, ieri lui, nel tardo pomeriggio, con molto entusiasmo, aveva annunciato triunfalmente che finalmente era arrivato il via libera da parte delle autorità tedesche per far svolgere questa manifestazione. E aveva pure sottolineato che non sarebbe stato obbligatorio l'uso delle mascherine. E quindi io vi ho dato soprattutto la notizia ieri sera partendo da questo intervento. Chiaramente non solo, ma era, diciamo, la fonte più importante, quella di Oliver Janisch. Poi anche lui aveva parlato di un obiettivo sicuramente ben superiore a quello che era stata la prima manifestazione di qualche settimana fa, che aveva superato il milione di presenze. Altri invece, come ho avuto modo di raccontarvi, avevano addirittura parlato di 5 milioni di tedeschi che sarebbero stati presenti. Ora, io oggi ho seguito le varie dirette live, ho seguito i commenti. Io mi sono fatto la mia idea guardando le immagini, ascoltando i commenti, che sicuramente questo risultato non è stato raggiunto. E questo bisogna dirlo in maniera molto onesta. Ci dobbiamo dire la verità. Guardate, io ho l'idea, mi sono fatto l'idea, che non si sia neppure raggiunto il numero di qualche settimana fa. E cioè che non si sia raggiunto quel milione di presenze, che oggi i numeri siano stati inferiori. Poi a questo punto è indifferente, 3, 4, 500 mila, 600 mila, non cambia. Quello che è sicuro è che non è stato raggiunto l'obiettivo che gli organizzatori siano prefissati. Questo è assolutamente, secondo il mio punto di vista, un dato certo. Così come il fatto che non credo che si sia superato, ripeto, il milione di presenze. Malgrado qualcuno, anche degli organizzatori, abbia parlato di 2 milioni, per carità, ognuno è libero di poter fare quello che vuole e di dire quello che vuole e se ne assume la responsabilità. Io sono abituato a dirvi la verità rispetto, cioè la mia verità chiaramente è ovvio, no? Rispetto a quello che ho potuto vedere e quello che ho potuto sentire. Quindi diciamo che l'obiettivo non è stato raggiunto. Ora però questo non significa che noi dobbiamo scoraggiarci, tutt'altro, specialmente in Italia, perché è chiaro che dobbiamo insistere. È stata una tappa, una tappa importante. Noi come Italia ci metteremo la firma a portare nelle piazze i numeri che sono riusciti a portare in queste due manifestazioni i tedeschi, no? Questo mi sembra abbastanza ovvio. Quindi noi dobbiamo insistere nel nostro lavoro e, come ho avuto modo di dirvi oggi pomeriggio, ad aprire un po' l'orizzonte e cioè ad avere anche dei contatti a livello internazionale, perché quello della libertà è un tema che tocca tutto il popolo di questo continente dell'Europa. Tutti sentono questo problema. Anche chi, ad esempio, proprio come i tedeschi, sta meglio. Anche loro avvertono questa cosa ed è una cosa rispetto alla quale loro si vogliono ribellare. Ha ragione ancora maggiore per parlarsi, come stiamo facendo, per mettersi insieme, che possa portare eventualmente in un prossimo futuro, speriamo presto, a una grande manifestazione a Bruxelles, nel cuore dell'Europa laddove vengono prese le decisioni e dov'è il vertice di questo nuovo sistema mondiale che bisogna abbattere. Ora, anche a livello di Italia, noi stiamo continuando a lavorare. Lavorare e organizzare la manifestazione del 12 di settembre, tra l'altro è un'assemblea popolare, non una manifestazione, che, ripeto, si svolgerà il 12 di settembre alla Villa de Verger a Rimini. Questa è un'occasione molto importante. Prenotatevi, andate sul link che trovate su tutti i gruppi dei gilet arancioni su internet facilmente, prenotatevi, è importante la presenza. Questo è un po' il preludio a una grande manifestazione che poi vogliamo organizzare nel mese di ottobre a Roma. Quindi, ripeto, non dobbiamo assolutamente scoraggiarci, anzi dobbiamo continuare nella nostra lotta. Sappiamo che abbiamo davanti a noi una montagna, il Monteverest, se non ancora di più, e quindi non cederanno facilmente. Noi dobbiamo insistere, dobbiamo trovare alleanze, dobbiamo continuare a denunciare quello che sta accadendo. Vi ho detto che i professionisti che collaborano con i gilet arancioni hanno preparato un documento di denuncia di quello che è successo in Italia durante l'emergenza di 172 pagine, un atto d'accusa pesantissimo nei confronti del governo. Chiudo appunto dicendovi quindi un risultato che a mio modo di vedere a Berlino non c'è stato, però questo non mi scoraggia, continuiamo sulla nostra strada, continuiamo a batterci per la nostra libertà perché è l'unica possibilità che noi abbiamo. Con questo io vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.